il punto c consiglio 36 stamane ne da notizia il mattino ancora una volta per quello che accaduto a torino criticabile che delle persone provano ad entrare senza biglietto o con i biglietti di un altro settore magari si potrebbe fare anche autocritiche analisi sul servizio d'ordine che fa in modo che questa storia non si risolva prima però per un centinaio di persone al massimo cosa che vi abbiamo raccontato con i collegamenti in questi in questi giorni durante un calcio alla radio di quello che è accaduto a torino si va verso un probabile video di trasferta per altre tre partite che poi andando a scendere nel nel dettaglio ad utile tifosi nel napoli parlo di quelli residenti in campania perché poi per colpire il tifo organizzato si priva la la gioia di tantissime persone che vorrebbero semplicemente andare a vedere la partita fuori casa a godersi l'esperienza che tutti i diamanti del pallone di questa comunità che ha delle liturgie hanno fatto si sono appassionati spesso anche così perché la trasferta un mood tutto suo e utile non bene andati genoa e la vera genova col genoa è la vera sconfitta se andrà così perché c'è stato uno storico gemellaggio i rapporti non sono più da gemellaggio ma non accade nulla non accadrà mai nulla perché c'è una un rispetto che è rimasto sotto i ceneri del gemellaggio poi firenze una soluzione una situazione particolare ci sono i lavori in corso al franchi avete visto sicuramente le partite alla fiorentina purtroppo l'ultima è una partita che ferisce ancora per quello che è accaduto a bove tra l'altro dopo racconteremo anche qualche aggiornamento su questa su questa vicenda a firenze visto la ristrettezza del settore ospiti visto che la curva fiesole e abc è a stretto contatto e vicina probabilmente neanche le avrebbero fatti andare i tifosi del napoli proprio per la questione che un esiguo numero di biglietti avrebbe creato problemi come sono accaduti di fatto a torino è vero che non dovrebbe mai esserci questi atteggiamenti ma pensare che tutti facciano i bravi è un utopia la realtà che lo stato dovrebbe garantire i diritti di tutti e punire i colpevoli chi sbaglia chi vuole entrare senza biglietto chi vuole entrare con un biglietto in un altro settore viene da spato viene ci sono tutti le leggi in italia sono buone e l'applicazione che non funziona ci sono tutti gli strumenti per prendere queste persone negarli la possibilità di andare allo stadio se fanno reati penali anche perseguirli penalmente e lasciar stare chi si comporta bene chi magari a torino non c'era e si era programmato lo sfizio di fare la trasferta a genova il 21 dicembre e ad oggi che siamo al 5 dicembre magari non è potuto neanche andare a ruma stasera in cui saranno 600 non residenti in campania non può programmarsi perché non sa ancora se lo stato è capace di garantirgli la possibilità di andare a genova il 21 dicembre ditemi se questo è un paese normale non lo è nessun altro paese d'europa vive queste incertezze queste situazioni e non è che gli ultras la violenza le rivalità ci sono soltanto in italia è andare a chiedere in francia cosa è successo anche abbastanza recentemente è una storia che deve cambiare è troppo facile di vieto non si va lo sappiamo far tutti l'ordine pubblico così tutti c'è bisogno di di avere una struttura così ramificata il casmo sull'osservatorio le forze dell'ordine l'intelligenza delle forze dell'ordine la digos le squadre tifoseria non c'è bisogno è inutile avere tutto questa organizzazione se poi la soluzione il divieto che colpisce ripeto i tifosi organizzati ma colpisce soprattutto le persone per bene che magari vogliono andare a fare una trasferta che nel loro modo di vivere questo sport concepiscono seguire la scuola del cuore lontano da casa come una un divertimento una gioia una passione che vogliono vivere a 360 gradi purtroppo non credo che questa vicenda e vedrà dei cambiamenti continueremo a vivere questo balletto stavolta si fanno anni fanno andare quest'altra no vediamo di vieto non divieto residenti in campanese in napoli e provincia questo è il paese dove torino juventus napoli il divieto dei trasferti arriva tra le 24 e le 48 ore prima questo è il paese in cui viviamo detto questo dicevo di bove sembra che il giocatore fortunatamente è stato stubato ieri sera dovrà sembra che gli sarà installato un defibrillatore interno poi dovrà fare tutti gli esami per capire se potrà tornare a giocare in italia che poi in italia ci sono regole più stringenti su queste vicende vedi ericsson non ha più giocato in italia per esempio vedremo cosa accadrà la cosa più importante che bove e abbiamo la possibilità di parlarne del suo ritorno in campo di quando accadrà si accadrà in italia e ci auguriamo ovviamente che vada come pernicka che poi potremo vederlo in campo vivere della sua gioia la sua passione di giocare al calcio a 22 anni tra l'altro in un periodo in cui stava anche crescendo stava prendendo la sua rivincita con la roma che non ha credo di lui stava seguendo anche il lavoro di palladino però per la coppa italia ieri un primo risultato da sorpresa dopo gli esiti abbastanza scontati anzi totalmente scontati di bologna munso e minanza solo due goleate l'emprenderà vincere a firenze ai rigori aspetterà la vincente di juventus cagliari stasera lazio napoli ve l'abbiamo detto in tutte le salse anche quando non ci credeva nessuno turnove radicale 11 giocatori completamente diversi rispetto a quelli che hanno vinto a torino tra virgolette la squadra b quella con cui conte per la religione del gruppo che ha messo a primo posto come strada verso il successo vuole affidare la coppa italia a loro anche la lazio farà un po di turnover giocherà gli usai probabilmente che fuori lista sia in campionato che in europa league qualche novità di una squadra che però è più pronta nelle sue seconde linee perché c'è l'europa league che gli consente di giocare di più a tutti quanti loro questo è il quadro stasera sicuramente il campo parlerà e vedremo che risposte darà in tal senso ne parleremo dall'olimpico nel punto c e domani con questa analisi a metà tra la coppa italia e il napoli lazio di campionato nelle nostre la nostra diretta che facciamo tutti i giorni alle 13 alle 15 un calcio da radio terzo tempo terzo tempo che poi il mercoledì sera anche in tv a televomero sul canale youtube come il punto c vi invito a di iscrivervi ad abbonarvi cosa soltanto 99 desimi al mese radio napoli centrale in dub nelle vostre auto hashtag radio napoli centrale sul sito da pari centrale punto it dove trovate poi anche tutti gli interventi che si sono svolti durante la diretta e al termine di essa sull'app su facebook su twitch non resta che sintonizzarvi con noi e vivere le vicende del napoli e non solo insieme alla nostra redazione il punto c con ciro tre di sei